Ci sono storie che si tramandano da sempre. Abbiamo avuto l'onore di viverle. Adesso ve le vogliamo raccontare. Perché ogni Olimpiade è una pagina della nostra storia. E questa sarà davvero speciale. Sappiamo cosa vuol dire lottare contro si stessi. Un centimetro in più. Un secondo in meno. Conosciamo il sacrificio che si nasconde dentro ogni gara. E che oltre al colore di una medaglia, conta anche il suo valore. Per questo vogliamo raccontarvele tutte, come nessuno ha fatto mai. Il nostro team olimpico. Per un'Olimpiade da record. Benvenuti sul podio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.